Adesso le spiego un attimo tutta la situazione. Allora, vede, dovete avere pazienza, diciamo, perché... Allora, il meccanismo è questo. Guardiamo i dati dei primi sette mesi di quest'anno. I primi sette mesi di quest'anno ci dicono che sono arrivati in Italia circa 95.000-96.000 persone. Le percentuali sono quelle che vi ho detto prima. Più del 40% delle persone che sono arrivate in Italia sono arrivate con navi delle organizzazioni non governative. Il 28% con navi della Guardia Costiera. Il 9% con la missione Sofia, che è la missione internazionale che opera nel Mediterraneo. E l'11% con la missione Frontex. Il 40% è una cifra molto importante. Io sono il ministro dell'interno. Allora, ho un obbligo. Vorrei spiegarlo a tutti quanti i compagni e gli amici, le persone che sono qui ad ascoltarci. Ho un obbligo. Devo tenere insieme due principi. Il primo principio è quello dell'accoglienza. Il primo principio irrinunciabile è quello del salvataggio di una vita in mare. Poi c'è un secondo problema. Il secondo problema è che quando arrivo in Italia io devo garantire la sicurezza dei cittadini. Perché questo è il compito mio. Salvataggio in mare e sicurezza dei cittadini. Allora, il punto è questo. Nel momento in cui la stragrande, una parte fondamentale delle persone che arrivano in Italia, arrivano attraverso le navi non governative, che sono a tutti gli effetti navi private, fino a quando arrivavano e arrivano con le navi della Marina Militare Italiana o della Guardia Costiera, è chiaro che non c'è nessun problema. Il principio della sicurezza viene garantito dal fatto che sono navi militari o navi della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera. Nel momento in cui sono navi private, io ho fatto una cosa semplicissima. Ho chiesto che venisse firmato un codice di comportamento. Voi direte, ma è una invenzione di Minniti? Quindi, purtroppo, no. A me avrebbe fatto molto piacere poter dire che è un'invenzione di Minniti. Sono anche una persona che ha un certo grado di autostima, quindi se questa autostima può essere confermata mi fa piacere. Non è così. C'è stata una commissione di indagine parlamentare sul tema dei salvataggi in mare e questa commissione parlamentare, all'unanimità, ha chiesto che si facesse un codice per regolamentare le attività dell'ONG in mare. Lei sa quante volte nel Parlamento italiano, dall'inizio della legislatura, si è votato all'unanimità? Cerchi di indovinare. Mi dica una cifra. Parrini, che è esperto, quante volte si è votato all'unanimità nel Parlamento italiano? Mai. Una sola volta. Questa è la volta. Il Parlamento italiano chiede al Governo di fare un codice per le organizzazioni non governative. All'unanimità. Il Governo che fa? Lei che è un esperto di diritto parlamentare e soprattutto un convinto democratico. Se il Parlamento chiede, il Governo naturalmente opera. Soprattutto se lo fa all'unanimità. Se non l'avessimo fatto, lei sarebbe venuto qui a dirmi il Parlamento vi ha chiesto di agire e voi non avete agito.